L'assessore regionale delle Marche alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, accompagnato dal dirigente Stefano Stefoni, ha effettuato nella mattina di lunedì 9 gennaio un sopralluogo al porto di Ancona. La perlustrazione si è svolta principalmente presso la banchina numero 22, dove sono in corso i lavori di allestimento delle strutture necessarie ad accogliere i 37 migranti a bordo della Ocean Viking e i 73 della Geo Barents, il cui arrivo è previsto per la mattinata di giovedì 12 gennaio. Stiamo allestendo quest'area per consentire un'accoglienza funzionale e dignitosa a queste due imbarcazioni che arriveranno dopo domani con circa 110 profughi a bordo. Noi siamo stati investiti di questo dalla prefettura sabato mattina, ci hanno chiesto di partecipare ad una riunione come Protezione Civile Regionale proprio per prevedere nel miglior modo possibile la funzionalità di questo sbarco. Io ci tengo a dire che queste sono situazioni che non riguardano direttamente la regione Marche perché sono situazioni che vengono gestite a livello nazionale e a livello locale attraverso la prefettura. Anzi io voglio anche ringraziare il prefetto Pellos perché è stato intanto gentilissimo e anche molto attento nell'investirci direttamente in questa situazione. Sabato abbiamo partecipato come Protezione Civile ad una riunione in prefettura dove si è stabilito un po' i ruoli e le situazioni. Quindi il ruolo nostro qual è? Noi abbiamo dato la disponibilità come Protezione Civile Regionale ad impiantare qui, vedete che lo stiamo facendo con tutti i volontari che ringrazio alle nostre spalle e alle mie spalle, stiamo sistemando cinque contenne di fatto che saranno il punto di primo controllo di questi migranti che saranno sbarcati qui, poi ci saranno anche dei controlli immagino sanitari oltre che personali, ci sarà quindi un'area di accoglienza, i bagni, un'area riscaldata dove poterli stazionare in attesa che poi vengano tutti identificati, visitati e immagino poi dislocati in altre aree della regione, io credo anche proprio da altre aree italiane perché io non credo che i migranti arrivando qui in Ancona poi rimarranno tutti quanti qui, ma queste sono questioni che vengono gestite dalla Prefettura e dal Dipartimento Nazionale, quindi noi come Regione Marche abbiamo dato la disponibilità alla Prefettura di allestire questo punto di prima accoglienza, credo che sia doveroso come servizio, la protezione civile è molto attenta a queste situazioni.